Il personaggio è molto poco mi sembra, come minutaggio in tempo. Allora, il discorso è molto chiaro, lo ribadisco ancora una volta, lo stiamo gestendo per fare un crescere di condizioni avvicinato all'intensità del calcio italiano, che è sicuramente molto più alta del campionato brasiliano, ma questa è la mia considerazione, ma anche oggettiva, non solo soggettiva in termini fisici e di intensità anche mentale. Probabilmente lo convoco domani, che ho piacere che sia con il gruppo, questo non toglie che stiamo portando avanti anche oggi un lavoro fisico differenziato e portarlo vicino alla condizione migliore.